Ed ora ci prepariamo ad ascoltare un altro quintetto, questa volta composto da Enrico lontani alla batteria, Lorenzo Gaberlini al basso, prima l'abbiamo visto al contrabbasso ora al basso elettrico. Di nuovo Carlo Borsari, questa volta chitaria elettrico o clarinetto? E infine due trombettisti, Anna Cantagalli e il suo maestro Pare De Silvio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.